... Allora, buonasera a tutti, noi siamo i Miracle, siamo il Tributo dei Queen Volevamo ringraziare tutti i nostri amici e i nostri fan per averci votato Ci vediamo l'11, il 12 e il 13 settembre al Parco Antonio Agnante di Via Grande per vedere il nostro spettacolo, Miracle e tutte le altre band partecipanti a questo contest 2015 Grazie, ciao